Ciao, sono Cristina e sono la moglie di Alessandro. Il nostro laboratorio si chiama Ceramicale, nasce a Siracusa da 20 anni, dopo che mio marito ha fatto un corso professionale con un professore di Caltagirone, il professore Regalbuto, che oggi non c'è più, ma è molto stimato a Caltagirone. Il nostro laboratorio si chiama Ceramicale, il nostro laboratorio si chiama Ceramicale. Il nostro laboratorio si chiama Ceramicale. Il nostro laboratorio si chiama Ceramicale. in contatto sia con i siracusani che con i turisti. Il cliente, quando arriva qui, può scegliere come realizzare il suo pezzo. non è obbligato allo standard di quello che è ben esposto. Può scegliere i colori, le dimensioni e le forme. Il nostro laboratorio si chiama Ceramicale. Il nostro laboratorio si chiama Ceramicale. è�� attrazione. Grazie a tutti.